salve a tutti ragazzi siamo al tavola torre per la qualificazione delle società la gara è finita l'atleta cacopuzzo si è confermato atleta cacopuzzo con zero al ventesimo a posto al ventiduesimo ventiduesimo vabbè 46 vabbè vabbè poi abbiamo qua l'atleta brachi che oggi 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 sgalletta una cosa seria dopo vi dirò perché dopo vi dirò perché sgalletta sentite come una chioccia sembra ragazzi che ha fatto ho sudato ha sudato 146 meglio di così non è riuscito la cosa positiva è sentita a premio bene 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 così bene così poi l'atleta martinelli che gli spiegabilmente ha fatto 77 76 hanno 47 oggi c'è l'accampato regionale anche di prima eccellenza e sei arrivato terzo terzo odio poi vediamo la società società è un quesito è un un atleta barbagli notiamo notiamo l'outfit mio e l'atleta barbagli l'outfit c'è il laghetto va sul laghetto va bene 41 41 ho visto un po se sei andato un po in difficoltà su un paio di piattelli un po parecchio anche io ragazzi dato che mi sono messo per ultimo fatto 43 ho cominciato entrambe le serie male prima serie 0 al primo e al terzo e poi uno in fondo seconda serie 0 al terzo quinto settimo e poi uno in fondo e lo so sono partito sono partito male molto male io sono un partenza puzzo perché sono partito male va bene noi siamo qui aspettiamo l'atleta rossi che stava finendo di sparare secondo me aveva zerato il 25esimo 42 quindi chi paga da bere io no l'atleta barbagli paga da bere o atleta barbagli paga da bere va bene andiamo a bere sono qua con la squadra vincente del tav siena la colonna portante capitano 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 ciao 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 com'è andata com'è andata vieni di qua vai 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 com'è andata è andata benissimo siamo stati tutti forti quante quanti piattelli avete dato la seconda una moltitudine dice 1 ma no no vabbè veramente quanti tanti va bene moltissimi complimenti a tutti grazie grazie l'atleta Fabri, l'atleta Valerani, l'atleta Alessandro, guarda qua, eccolo, eccoli qua, l'atleta Salaris, facciamoci tutti insieme, vai, e io direi un hip hip hurra, hip hip hurra, hip hip hurra, bravi, bravi, basta, basta, e ora andate sul podio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.